Bellettini, biscotti, borghi, capperucci, carbone, Cerulli, Covitto, Cullini, Di Vincenzo, Fatarella, Gaglianone, Longo, Malentacchi, Marsinelli, Molinari, Pizzuti, Pugeli, Schiavo, Sordini, Teglia, Turbanti, Così è il numero legale, il Presidente pubblica dell'Aberta della Sede di Ucraina. Grazie, grazie Rettore. Nomino eventuali sfruttatori dei consiglieri. Valtazzi, iniziamo. Bellettini, Moreno e biscotti, Valentino. Grazie.